Vai! Viola, di ciao! Ciao! Come ti chiami? Viola! E dove siamo adesso? Siamo nell'orto dello zio Andrea! Siamo molto orgogliosi del nostro zio! Dignelo Viola! No! Viola! Questa crescerà nell'orto? Le fragole, i piselli, le zucchine, l'insalata, i pomodori, tutto genuino, biologico, senza concimi! No, con molta cacca però! Con molta cacca di Viola che ha già iniziato a concimare ieri, ieri l'alto!